mi sto commuovendo e gabriele ma come mai così pochi ingredienti è perché una ricetta semplice davvero facile e ci fate un figurone padella siamo solo io e te beatrice quindi padella non tanto grande dipende da quante porzioni volete fare quindi sto facendo per due un po di olio extravergine non tanto perché poi non lo tiriamo via quindi non deve essere tanto filettino di merluzzo bello fresco va bene anche baccalà va bene il pesce persico filetto di orata perché sia una carne bella consistente e un pochino di farina infarinare celiaci possono usare anche una farina deglutinata o qualsiasi farina preferiscono anche l'amido di mais infarinare bene via la farina in eccesso mi raccomando che il pesce sia asciutto importante altrimenti vi fa le patacche nella padella non è una ricetta banale merluzzo al limone perché se è ben fatta fa davvero la sua porca figura vi faccio vedere due tre trucchetti per farla benissimo un bel limone biologico con su una bella buccia lo tagliamo a metà ci serve il succo di tutto il limone e la scorza di mezzo limone intanto il merluzzo piano piano sta rosolando è quando si fanno tranci di pesce così senza pelle senza spine vanno girati una volta sola perché se continuate a toccarli a girarli li distruggete prendiamo anche la scorzetta di quasi mezzo limone tagliata sottile cercando di non prendere il bianco perché il bianco spesso è un po amaro dopo cinque minuti che sarà rosolato anche sotto senza toccarlo ci metto il succo del limone mezzo bicchiere di acqua e ci metto dentro un cucchiaino di farina e la sciolgo bene col ditino o col cucchiaino se non avete il ditino al dittino se lo avete tutti credo sciolgo bene che non ci siano grumi a parte che se fa qualche grumo non importa perché poi la setacciamo e versiamo dentro la buccia del limone ne ho tenuto qualche pezzettino ad aggiungere nel piatto dopo buccia del limone sparpagliata potete farla anche con l'arancia questa ricetta un pochino di sale non serve pepe aglio cipolla loro prezzemolo rosmarino zampe di gallina niente serve un coperchio possibilmente il suo mi raccomando è di non andare l'acqua con forchettone a distruggere il suo povero pesce al massimo lo muovete un pochino così o con il cucchiaio lo bagnate cuoce davvero in pochi minuti 4 minuti lui è cotto non deve mai essere stracotto il pesce di contorno ci ha abbinato delle carote glassate al burro a fine video vi metto la ricetta anche ho scelto le carote perché sono dolci perché abbiamo un pesce con il limone che è aspro così creiamo un contrasto buonissimo e poi sono belle anche da vedere dopo tre minuti questo risultato vedete è anche già giusto come salsina se lo vedete asciutto mettete una voce d'acqua se lo vedete troppo bagnato lo fate bollire un attimo senza coperchio ed è cotto perfettamente se riconosce perché schiacciandolo vedete cede non rimbalza quindi è cotto quando impiattate cose delicate come il pesce prendete una paletta abbastanza lunga perché sono poi vi si scassa già questa è già fin troppo corta comunque mi aiuto col ditino tiro su movimento deciso dentro nel piatto la salsina non presenta particolari grumi ed è già giusto come densità quindi non c'è bisogno di filtrarla ma la possiamo usare direttamente le buccine le metto sopra con un senso fate un po oppure sparpagliate come preferite le carote naturalmente scegliete il contorno che più vi piace se volete farci le patate i piselli metteteci dentro quello che volete io mi trovo bene così ma mettete quello che vi piace se le avete tenuto da parte qualche bucina di arancia o di limone qui e là dove capita una macchiolina di verde ma giusto per dargli un po di colore una fettina di focaccia mi sto commuovendo io va che va che bella facile no due ingredienti abbiamo fatto la ricetta ci vogliono 10 minuti davvero di orologio per farla potete farla all'arancia potete farla come volete carotine vi metto qui la ricetta delle carote qui o qui e dopo vedo ma la vera libidine si buono ok a bestia questa è la vera libidine i filmi di nascosto nel passo per mangiare buona la focaccia ma stai già masticando posso già essere prodotto e buono registrando